registro, registro che si vede? che ora ha fatto questa? hai sei due hai sei si, si, ma fate la prova adesso no, ha detto che la provano a girare ok allora il ciak scena 2 punto 2 ci siamo? Buongiorno. 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 fate la carità a questo poveraccio è Natale è Natale anche per me fratello siamo poveri anche noi e siccome siamo numerosi le elemosine che ci danno ci saranno necessarie però siccome vogliamo bene al Signore